Poiché disponiamo di abbastanza scienza per affermare che se il contenuto organico è del suolo e del 3%, quali sono i micronutrienti extra presenti in quel cibo e quali sono i benefici per la salute, questo non sta accadendo solo per mancanza di una coesa direzione e impegno. Questo è quello che vorrei portare alla COP15 in Costa d'Avorio. Ogni nazione, povera o ricca, può farlo e dovrebbe essere fatto. Satguru, ci si aspetta che tu partecipi alla quindicesima sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione. Questa conferenza si terrà ad Abidjan, Costa d'Avorio, in Africa occidentale, dal 9 al 20 maggio. Leader mondiali, ministri, organizzazioni della società civile, esperti, il mondo si radunerà ad Abidjan. A migliaia, per discutere l'importantissima questione della terra e del suolo. E attendiamo con molto piacere la tua partecipazione a questa conferenza. Credo che Abidjan sia una delle città che visiterai durante i 100 giorni. Cosa ti aspetti da una conferenza delle parti come questa ad Abidjan? E cosa speri di ottenere? Una cosa che vorrei chiedere a te, all'UNCCD, nel suo complesso, è di, in qualche modo, concentrarsi di più sul soprassuolo. Ci sono altre preoccupazioni, non sto dicendo che dovresti eliminarle, ma in termini di semplice politica, dobbiamo portare l'attenzione su questo. Questo è l'appello che vorrei fare a queste 197 nazioni, compresa l'Unione Europea, che è una parte importante per essere di esempio. La cosa importante è questa, che ci deve essere un incentivo per un agricoltore ad aumentare il contenuto organico. In questo momento ci sono vari prodotti che sono considerati biologici. Cosa sono gli altri prodotti? Non sono sicuramente non biologici, lo sappiamo. Quindi, se cambiamo il livello stesso, cioè una certa percentuale di contenuto organico, per esempio, in questo momento l'Europa del Nord è all'1,48%, se l'Europa del Nord offre questo incentivo all'agricoltore, se lo si porta al 3% di contenuto biologico, è molto facile testare il contenuto organico del suolo. Può essere fatto sul campo, non c'è bisogno di un laboratorio per farlo. Quindi, se questo viene fatto, questo prodotto convertendo la terra al 3% di contenuto organico, il 3% non è la cosa migliore, il 3% è una dieta da fame per la vita microbica, ma almeno permettiamo che avvenga quel tanto, affinché almeno rimanga in vita. Sappiamo che sta morendo, che la desertificazione sta avvenendo, significa che la vita microbica sta morendo di fame, ecco cosa significa. Quindi, almeno tenerlo in vita e come si incrementa, si etichetta il prodotto in base al suo contenuto organico. Nel frattempo, le imprese e l'industria possono intervenire, fare in modo che l'agricoltore ottenga il credito per il carbonio. È molto importante valorizzare l'aspetto remunerativo dell'agricoltura, altrimenti tra 25 e 30 anni nessuno farà più l'agricoltore. Quindi un'altra cosa è che il prodotto troverà differenti possibilità sul mercato, 3%, 4%, 5%. Poiché disponiamo di abbastanza scienza per affermare che se il contenuto organico del suolo è del 3%, quali sono i micronutrienti extra presenti in quel cibo e quali sono i benefici per la salute, quali sono i benefici preventivi per la salute. Tutto questo è ben stabilito. Abbiamo solo bisogno di correlarlo e stabilire una tabella di marcia che il mondo intero si muova verso un minimo del 3-6% di contenuto organico nei prossimi 8-12 anni. È davvero fattibile, perché solo se si portano in campo le colture di copertura in estate o in inverno, secondo la natura del proprio clima, solo la coltura di copertura e arrarla di nuovo nella terra, se si fa questo, entro 6-8 anni la maggior parte dei terreni raggiungerà il 3% minimo. Quindi non è impossibile e non serve un'enorme quantità di denaro, è solo una questione di un'unica direzione e impegno. Quello che abbiamo visto in India è che permettere le colture di copertura, se il governo deve dare un sussidio per i semi da gettare nel terreno, da cui non si ricava alcun raccolto, viene solo usato come humus. Se si deve fare così, costa solo 450 rupie per acro, che sono solo 5 euro o meno di 5 euro per acro. Ogni nazione può farlo, non ha bisogno di budget elevati. Se vuoi farlo entro 2-3 anni, costerà un po' più di denaro, ma se vuoi farlo in 6-8 anni, ogni nazione può farlo. Questo non sta accadendo solo per mancanza di una coesa direzione e impegno. Questo è quello che vorrei portare alla COP15 in Costa d'Avorio, che queste 197 nazioni, se lo valutano in questo modo, un focus specifico verso il soprassuolo e un impegno in tal senso, questo non richiede denaro, questo non richiede una grande tecnologia. Ogni nazione, povera o ricca, può farlo e dovrebbe essere fatto. Se sei interessato al futuro di questo mondo e alle generazioni future, la FAO afferma che il cibo che stiamo mangiando ora appartiene al bambino non ancora nato. Mangiare il cibo del bambino non ancora nato mi duole nel profondo del cuore. Sembra che stiamo commettendo un crimine contro l'umanità stessa. Beh, grazie mille Sadhguru, grazie a tutti gli ascoltatori e spettatori. Milioni da tutto il mondo ti seguono Sadhguru e speriamo che facciano di più che seguirti nei tuoi video, che ti seguano con le azioni e vorremmo invitare tutte le persone del mondo a prendersi cura di questo importantissimo capitale naturale. Perché è la vita, è il nostro cibo, è la nostra aria, è la qualità dell'acqua, è la qualità della nostra salute ed è la qualità del cibo, il cibo nutriente di cui tutti noi abbiamo bisogno. Quindi vorrei ringraziarvi tutti moltissimo per la vostra partecipazione. Grazie Sadhguru per il tuo viaggio.